Essere un player significa affrontare sempre nuove sfide, vivere i cambiamenti come un'opportunità ed io sono entusiasta di partecipare alla Challenger League con la mia nuova org, MatchGo eSports. Mi chiamo Simone Celsi, gioco a Rainbow Six Siege da quando è nato ed oggi cambia la squadra per la prima volta. Dal 2016 ad oggi ho vinto tutti i campionati nazionali ed ho giocato le prime due stagioni della Pro League europea. Sento che con questi ragazzi faremo grandi cose. I'm Aleation and this is MatchGo eSports. MatchGo